Il Partito Democratico esce sconfitto da questa ultima tornata elettorale sia a livello nazionale che anche a livello aretino. Come si può leggere questo dato? È un dato purtroppo negativo, un trend nazionale molto forte che si ripercuote anche su questo territorio. È stata una sfida difficile, allo stesso tempo anche entusiasmante di confronto con la provincia di Arezzo, ma ahimè il risultato in questo momento ci penalizza. Il Partito Democratico non è stato riconfermato nemmeno il secondo mandato di Marco Donati. Sì, purtroppo sì, ma questa non è la conseguenza più importante. C'è in questo momento da ricostruire un tessuto politico, soprattutto anche ringraziare i tanti che si sono adoperati in questa campagna elettorale e quindi credo che ci sia comunque da dare molta attenzione. In questi anni erano arrivate risposte significative, penso al finanziamento della Due Mari e di altre infrastrutture, interventi importanti. Mi auguro che vengano difesi anche da coloro che siederanno in Parlamento dopo di me. Ecco, il Partito Democratico non sarà rappresentato da alcun retino in Parlamento? Questo purtroppo sì, perché chiaramente è la conseguenza di una mancata rappresentanza del Partito Democratico. Questo però accade anche in altre parti della Toscana. È un dato su cui riflettere e da cui ripartire, anche perché ovviamente dovremo analizzare bene i dati e i risultati di questo Partito Democratico. Comunque tiene in provincia d'Arezzo, spero anche la mia candidatura sia servita a dare un risultato migliore di quello che ci si poteva aspettare. È la prima volta però. Sì, assolutamente sì. È un fatto comunque storico. Credo che in particolare sia stato un dato legato alla crescita della Lega in maniera esponenziale. Forse questo non se lo aspettavano neanche i candidati del centro-destra, che oggi vengono eletti proprio grazie ai voti della Lega. Però ci sarà tempo e modo per analizzare. L'importante è fare in modo che questa terra, Arezzo, abbia comunque le risposte che merita. Qual è stato il peso di Matteo Renzi in questo risultato? Ovviamente questo è stato un territorio attraversato da vicende molto delicate che sono state utilizzate a simbolo. Arezzo ha pagato molto anche in termini di visibilità. Credo che Renzi abbia rappresentato in questa stagione precedente una fase politica entusiasmante. Oggi probabilmente non lo è più. Questo è il risultato anche del voto, lo testimonia. Quindi nei prossimi giorni vedremo cosa succederà e ovviamente tutti i dirigenti politici locali e nazionali fanno le proprie valutazioni. Aspettavate questo risultato? Devo dire che io avevo avvertito una difficoltà negli ultimi giorni e quindi avevo compreso che il dato era molto difficile. Molte volte venivo rassicurato, ma avevo compreso che molti cittadini avevano deciso di dare un voto diverso, di forme, dalla mia coalizione. Ovviamente forse in queste proporzioni non così tanto e forse non si aspettavano neanche gli esponenti del centro-destra che hanno vinto questa competizione. Tanto è comunque che i cittadini quando esprimono il proprio voto e lo fanno, tra l'altro con queste percentuali, hanno sempre ragione. Quindi il voto va sempre rispettato. Cosa ci sarà nel futuro di Marco Donanti adesso? Ma intanto qualche giorno per mettere a posto le cose e poi un po' di politica. Sicuramente molto volontariato, il servizio per la mia città perché quando ti rappresenti e le persone ti votano c'è anche da riconoscere a quelle persone una rappresentanza. Ci sono vari modi per poterlo fare. Ovviamente sicuramente il ritorno alle mie occupazioni, alle attività personali e poi chiaramente vediamo nel futuro quello che accadrà nella politica perché la politica è un servizio, va messa a disposizione degli altri.